Siamo con Andrea Poggio, Presidente di Lega Ambiente e Fondazione Innovazione. Oggi è stato presentato Super Hub. Come nasce questo progetto e quali sono gli obiettivi? Nasce da un raggruppamento di centri di ricerca, di imprese private e di società di trasporti, a trasporti pubblici e privati, compresi i nuovi servizi di car sharing, della telefonia, associazione ambientalista come Lega Ambiente, tutti insieme per fornire un nuovo servizio di mobilità. Non perché ci sia un nuovo mezzo di trasporto, ma perché c'è l'intelligenza di mettere insieme tutti i sistemi di mobilità possibili. Perché io non sono un ciclista, non sono un motociclista, non sono un automobilista, non sono uno che va sul tramo. Sono tutte queste cose insieme. Finalmente mi considerano come un cittadino che vuole muoversi. E allora invece di uscire di casa con la propria macchina e il navigatore, esco di casa con questo e sono sicuro di poter tornare alla sera. Come potremmo utilizzare in tutti i giorni questa nuova applicazione? Allora, tutte queste persone insieme hanno elaborato un sistema, un software, una roba che sta sul computer piuttosto che sul cellulare che permette di riuscire a dare delle risposte al singolo cittadino. In questo momento a Milano 1800 persone hanno testato questo sistema per la propria mobilità. Non solo, posso decidere di informare questo sistema, questa applicazione, delle mie scelte di utenza. Perché io sono abbonato al mezzo pubblico oppure devo fare il biglietto. Perché io amo particolarmente la bicicletta, quindi preferisco in tutti gli spostamenti che devono fare usare la bicicletta. Allora il software mi consiglia come farla. Mi dà anche le votazioni, mi dice che se sono bravo o no. Apprende anche del mio comportamento. E nello stesso tempo informa chi deve governare la città, piuttosto che chi deve governare le società di trasporto, su come deve potenziare i servizi, su come deve cambiare per esempio Milano all'area C. Ecco, pensate che questa cosa l'abbiamo studiata intanto per Milano, Barcellona e Helsinki. Ma perché diventi usufruibile in forma aperta, disponibile a tutte le città d'Europa. Ognuno dovrà sviluppare le sue informazioni specifiche ovviamente. I propri cittadini dovranno influenzare i comportamenti della propria mobilità. Chi sono i partner del progetto e quanto è il valore? I partner del progetto sono una ventina. Non te le elenco tutti, basta leggerle uno per uno, guardarle sul sito internet www.superhabproject.eu c'è anche la traduzione in italiana, quindi dateli curiosate e chiedete che queste cose siano disponibili nelle proprie città. Perché? Perché la Commissione Eurospea ha speso ben 7 milioni di euro per sviluppare uno strumento utile a tutte le città che adesso le città possono utilizzare già bello cotto e cucinato per farne soltanto l'implementazione locale. E noi speriamo che almeno due o tre città d'Italia, almeno una decina di città d'Europa lo usino subito. Grazie a tutti!